Protezione civile in piazza Lecco nell'ambito della settimana della prevenzione. Stefano Cassinelli, sindaco di Dervio, uno dei comuni più colpiti dall'alluvione dello scorso giugno. Quanto è stato importante l'apporto dei volontari di protezione civile in questo terribile frangente? Prevenire è importantissimo perché appunto si evitano i grossi guai, però quando i guai arrivano dobbiamo ringraziare il fatto che ci sono i volontari, perché protezione civile, croce rossa, tutte le organizzazioni di volontariato sono indispensabili e fondamentali, senza quelle non saremmo in grado di uscire dall'emergenza, perché la struttura pubblica non è in grado senza l'appoggio del volontariato di gestire emergenze di quelle dimensioni. La cosa fondamentale credo che sia avere il coraggio di decidere, perché il non decidere, anche prendere decisioni difficili, non decidere è l'errore più grave, è meglio commettere qualche errore ma prendere decisioni e la protezione civile è un fortissimo supporto partendo dalle forze in campo, dagli uomini disponibili e delle loro esperienze per prendere decisioni giuste. L'ECO siamo 24, 24 volontari e operiamo H24 su 4 squadre, quindi 4 turni di squadra. Oggi stiamo allestendo quella che è la giornata nazionale di Io non rischio e l'ECO partecipa a questa campagna di Io non rischio con una sua postazione che vedete qui intorno, che stiamo allestendo. La finalità è quella di informare la popolazione, nello specifico oggi nostro, sul rischio alluvione. Abbiamo puntato su questo perché la gran parte dei nostri interventi come protezione civile viene fatta sul rischio idrogeologico, come si è visto anche nella scorsa estate, gli episodi che ci sono stati in Valsassina e ad Ervio, per cui noi puntiamo su questo.